Musica Benvenuti a questa puntata di Spazio Salute e Sanità. Siamo in studio con il professor Gianfranco Antonelli, direttore della cardiologia ospedaliera del Polirinico di Bari. Voi potete intervenire telefonandoci al numero 080 501 9998. 501 9998 lo troverete scritto in sovraimpressione. Parliamo stasera di infarto e soprattutto del dopo infarto. Professor Antonelli, il problema si pone nell'infarto e uno viene ricoverato in ospedale o nella struttura più idonea. Dopo che succede? Dopo succedono cose molto importanti perché il paziente supera la fase acuta, viene trattato nella struttura più idonea e il trattamento idoneo vuol dire effettuazione di una angioplastica, cioè di una procedura che nella fase acuta dell'infarto provoca una riapertura del vaso che si è occluso, ma poi c'è tutto il dopo, il dopo che è dovuto alla conseguenza del danno che ha subito il cuore, un danno con morte della parte del cuore che era interessata dall'arteria che si è chiusa e il cui recupero dipende dalla terapia a cui il paziente viene sottoposto e dalla riabilitazione che può effettuare. C'è qualcuno che fa il bypass, che cos'è? Il bypass nella fase post-infartuale viene effettuata solo raramente perché nella fase acuta dell'infarto si effettua l'angioplastica primaria che è quella che riapre il vaso occluso. Il famoso palloncino insomma. Il famoso palloncino con il posizionamento di quella retina metallica che noi chiamiamo stent e che serve per portare a parete il trombo che si è formato all'interno dell'arteria coronarica. Il bypass si attua in alcune condizioni particolari, cioè quando il paziente è particolarmente grave oppure quando l'arteria che si è chiusa è una delle principali arterie del cuore e in quel caso si può anche fare un bypass di emergenza nel post-infarto. Abbiamo subito una telefonata. Pronto? Buon pomeriggio. La mia domanda è questa, inerente ai farmaci, ma non per quanto riguarda la cardiologia. Io lunedì devo essere operata agli occhi, però mi hanno prescritto dei colliri che devo usare solo per tre giorni. Queste confezioni invece sono di 20 pezzi. Praticamente io farò uso di 5 solo pezzi, il resto li devo buttare. Quindi ce li metto come soldi, anche se in minimo come soldi. In più questi farmaci quindi inquinano anche. Ho invitato diverse volte i medici di poter dire alle ditte farmaceutiche di preparare delle confezioni che vanno solo per la fase preparatoria all'intervento. Sì signora, c'è un'iniziativa di legge per la quale saranno le ditte farmaceutiche che dovranno fare delle confezioni adattate. Ma le ditte non conviene questo. E lo so. La legge ce lo farà fare. Grazie. Allora professore, parlavamo di questa degenza in ospedale. Sì. E quanti giorni di degenza ci sono dopo l'intervento? Dopo l'intervento della fase estimuta? Mediamente ci sono sei giorni di degenza. Ovviamente parliamo di mediamente perché ci sono infarti meno gravi che già dopo quattro giorni possono essere dimessi e quelli invece che si complicano, che hanno una durata di ricovero molto maggiore. L'importante è che il paziente venga avviato poi al ritorno a casa con un'adeguata terapia che serve per cercare di rimediare il danno che ha subito nella fase acuta. Abbiamo la telefonata ancora. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Una cortesia a proposito di bypass. Mio marito ha messo due bypass nel 2001. Io sono sempre preoccupata perché non so quanto tempo. Durano per sempre? Oppure corriamo il rischio che si debbano rifare, che si rompano? Non lo so. Insomma, è sempre sotto controllo cardiologico. Però ho sempre questa paura che non durino... Non so nemmeno io quanto tempo. Sì, capito. Sì, signora. Prego. Sì. Ovviamente i bypass vengono effettuati ponendo a bypass, cioè a salto della lesione che si è chiusa, delle strutture che sono delle strutture di tipo biologico, o delle arterie o delle vene dello stesso soggetto che va incontro al bypass. È chiaro che, così come la malattia arteriosclerotica ha interessato quello che noi chiamiamo arterie coronariche native, cioè quelle con cui nasce l'uomo, la stessa malattia arteriosclerotica potrebbe interessare i bypass, cioè questi tubicini che sono stati asportati dallo stesso soggetto, per esempio dalle vene delle gambe o dall'arteria mammaria, e posti a saltare l'arteria occlusa. E per questo che va fatta una terapia di prevenzione secondaria, diciamo noi, c'è una terapia che serve a bloccare l'evoluzione della malattia arteriosclerotica ed impedire che anche questi condotti, questi tubicini, vadano incontro alla stessa malattia che ha causato la primitiva occlusione coronarica. Quindi c'è soltanto da controllare e da avere delle regole di vita. C'è un tipo di bypass che è stato fatto, perché in generale i bypass arteriosi, cioè quelli formati con l'arteria mammaria, hanno una durata maggiore dei bypass venosi, però noi vediamo anche dei bypass effettuati anche da valenti cardiochirurghi, perché molto spesso dipende anche dalla mano che è effettuato il bypass, che durano veramente decenni e che stanno perfettamente pervi anche a controlli effettuati a distanza notevole. Allora, grazie, l'infartuato esce dall'ospedale e cosa fa? Dunque l'infartuato esce dall'ospedale e se non ha avuto delle gravissime conseguenze dall'infarto, perché purtroppo ci sono anche degli infarti che hanno delle complicazioni intraospedaliere molto serie, dipende appunto dalla entità dell'infarto stesso, va a casa. Questo raggiungimento del domicilio viene effettuato di solito con la prescrizione di una terapia adeguata, che è la terapia appunto della prevenzione secondaria, cioè quella che deve tendere a mantenere un po' bloccata la malattia arteriosclerotica, a non causare gravi alterazioni della funzione del cuore e a consentire al paziente di riprendere al più presto una vita perfettamente normale. E si parla di riabilitazione? Ecco, la riabilitazione è che la reintroduzione del paziente nella vita di tutti i giorni, cioè nella sua attività lavorativa, è un accompagnamento, diciamo così, di questo paziente verso questo obiettivo, che è quello di recuperare totalmente il paziente e la società ai suoi affetti e alle sue abitudini consolidate. Viene effettuata di solito, quando il paziente non ha grossi problemi, in maniera ambulatoriale. Noi abbiamo una struttura nella nostra cardiologia ospedaliera di tipo ambulatoriale presso la quale rivediamo i pazienti dimessi a distanza di 20-25 giorni dall'evento acuto ed effettuiamo tutta una serie di test diagnostici che servono per verificare che la situazione sia sotto controllo, che il paziente non abbia avuto complicanze, che stia facendo la terapia e lo avviamo alla ulteriore prosecuzione della terapia inviandolo poi al curante. Farmaci. Deve prendere dei farmaci il soggetto. Per quale motivo? La situazione che ha determinato l'infarto del mio cardio è una situazione di solito multifattoriale, cioè ci sono numerose cause che causano questa alterazione della struttura delle arterie. Noi interveniamo con la terapia cercando di bloccare o di frenare l'evoluzione di queste cause che potrebbero determinare un ulteriore aggravamento della situazione. Quindi ricorriamo a farmaci che hanno il compito di bloccare la situazione della arteriosclerosi e soprattutto manteniamo il paziente in terapia per mantenere aperto il tubicino che è stato messo nella fase acuta dell'infarto, lo stent, cioè questa retina metallica, che ha bisogno in maniera assoluta per un periodo variabile a seconda del tipo di stent di una terapia che impedisca che all'interno dello stent si formi un trombo. Quindi il paziente deve effettuare una terapia antitrombotica per evitare la trombosi dello stent, una terapia di rimodellamento del cuore, cioè per impedire che la cicatrice che si è formata abbia un'evoluzione catastrofica, una evoluzione sfavorevole e deve effettuare una terapia antiaterosclerotica per limitare e bloccare l'evoluzione di spessimento delle pareti del vaso che poi portano alla formazione della placca, che è la struttura che poi va a chiudere il vaso stesso. C'è il rischio che le medicine possano fare del danno al soggetto? Le medicine non sono mai un evento fisiologico, sono un evento a cui si ricorre proprio perché ce n'è bisogno e tutte le medicine possono avere degli effetti collaterali, possono avere delle conseguenze sull'organismo perché vengono digerite, diciamo così, metabolizzate dal fegato, dall'intestino, si propagano in tutto il nostro organismo e quindi possono, potrebbero avere delle reazioni avverse. Telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Ho sentito parlare di statine, vorrei sapere a cosa servono e se servono per curare o per prevenire. È capitata nel punto giusto la domanda, complimenti signora. È una domanda molto pertinente, è vero. Le statine sono dei farmaci che hanno in qualche maniera rivoluzionato la nostra possibilità di intervento terapeutico nelle coronaropatie e nella cardiopatia ischemica perché sono dei farmaci che hanno una duplice attività terapeutica. Da un lato intervengono sulla via di formazione del colesterolo nel nostro fegato, bloccando questa via con un effetto metabolico di tipo enzimatico e riducendo quindi i valori di colesterolo nel sangue circolante. Soprattutto riducono i livelli di colesterolo cosiddetto cattivo perché questo colesterolo cosiddetto cattivo, il colesterolo LDL ossidato, è quello che più facilmente penetra nella parete dell'arteria e va a formare la placca, cioè la struttura che va ad ostruire il vaso. Quindi queste statine sono dei farmaci che agendo in maniera riduttiva sul colesterolo LDL bloccano naturalmente lo sviluppo della placca terosclerotica. In più, le statine hanno un effetto anti-infiammatorio, ma non anti-infiammatorio nel senso usuale della parola, cioè nel senso che possono guarire il raffreddore, hanno un effetto sui parametri cosiddetti di infiammazione che sono presenti nel nostro organismo e che si è visto essere responsabili dell'alterazione delle pareti dei vasi, cioè dell'alterazione dell'endotelio presente nei vasi. La malattia arteriosclerotica è una malattia cosiddetta infiammatoria. Queste statine hanno avuto una grande rilevanza da un punto di vista clinico proprio perché associano alla proprietà di ridurre il colesterolo cattivo la proprietà anti-infiammatoria che porta alla riduzione di questo parametro alterato nel nostro organismo. Quindi statine a tutti i pazienti oppure ad alcuni sì e altri no? No, statine a tutti i pazienti, non solo statine a tutti i pazienti, ma nella situazione post-infartuale in cui c'è una condizione di allarme particolarmente grave, noi adoperiamo, e questo viene autorizzato da un punto di vista legale, dai nostri decisori politici che consentono la rimborsabilità totale di questi farmaci, statine cosiddette ad alta efficacia, cioè statine che sono in grado di avere questo effetto anti-infiammatorio in maniera particolarmente spiccata. Abbiamo una telefonata, pronto?